Covid nell'area berica, positivo il 5,9% dei tamponi, 4 le vittime. Veneto, la regione presenta la campagna vaccinale, si parte domenica 27. Un sotto, tutto pronto per il vaccine day, intanto il Covid allenta la presa sui reparti ospedalieri. Ultime ore di shopping prima del lockdown, negozi aperti, ma i vicentini non ne approfittano. Rapina in un supermercato del quartiere Anconetta, commessa minacciata col coltello. Bentrovati dalla redazione di TG Vicenza, il bollettino pomeridiano di Azienda Zero in apertura di questa edizione, con un totale di attuali menti positivi che sale ancora, 103.366, sale di altri 38 casi il numero dei deceduti, 5.814, cresce anche il numero dei guariti a sopra quota 118.000. Un piccolo segnale positivo arriva dal saldo dei ricoveri, meno 28 in area non critica e nessuna variazione in terapia intensiva. Vediamo anche la situazione dell'epidemia con l'aggiornamento dell'Ulsotto Berica, 6.242 tamponi, nelle ultime 24 ore 372 sono risultati positivi, ovvero il 5,9%. Sono stati 4 in decessi, 540 i guariti. Conto alla rovescia dunque per il vaccino contro il Covid, che sarà su base volontaria. Si comincia domenica, la Regione Veneto ha presentato oggi il piano vaccinale. La Regione Veneto si prepara alla campagna di vaccinazione contro il Covid. Parte domenica 27, la lotta concreta ad armi pari contro il virus che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. Un'epidemia che interessa il 20, 30, 40% delle nostre strutture, ma vi garantisco che ci assorba il 70, 80% del tempo e dobbiamo essere sempre non pronti, ma preparati il giorno prima per affrontare qualunque emergenza il giorno dopo. Le prime iniezioni saranno per operatori sanitari, ospiti delle case di riposo. Poi toccherà gli ultraottantenni e a scendere con l'età al resto della popolazione. Le consegne sono attese nei prossimi giorni. Abbiamo avuto la certezza da parte della Protezione Civile Nazionale di avere una fornitura per il 27 mattina. Entro le ore 7 del mattino arriveranno 875 dosi per la Regione Veneto. Il vaccino sarà su base volontaria, ma con invito della Regione. La campagna si dovrebbe concludere per settembre. La seconda iniezione andrà fatta dopo 21 giorni e la settimana dopo dovrebbe essere efficace l'immunità. Fino al Novecento, nelle nostre case Venete, avevano 10-12 figli, ci sono le fotografie, vedete, ma metà morivano. Di cosa morivano? Di morbillo, di rosolia, di paratite, di tetro, di difterite. Bene, dal 1900 la mortalità infantile dal 3% è scesa allo 0,1%. La vita media da 55 anni è passata a 80 anni. Chiedetevi perché. Nell'Ulssotto il Covid allenta la stretta sui reparti ospedalieri. L'azienda chiude parte di alcune strutture e manda in ferie il personale. Intanto è tutto pronto anche qui per il Vaxing Day di domenica. C'è sicuramente una minore pressione che ci permette di dare anche un pochino più di tranquillità ad alcuni operatori. Abbiamo chiuso alcune sezioni Covid e dato le ferie al personale in modo da dargli un po' di respiro. Si torna a respirare nelle strutture sanitarie dell'Ulssotto. Cala la pressione sui reparti ospedalieri complice la fine dell'onda di positivi esplosa 15-20 giorni fa. Il numero infatti dei positivi è in calo omentro le emissioni ed anche i decessi sono meno. I numeri sono fluttuanti ma certo molta speranza viene riposta ora su questo mini lockdown. Vedremo poi gli effetti di questo lockdown che ci sarà natalizia fra 15-20 giorni e vedremo quindi se ci sarà un ulteriore calo oppure se ci sarà qualche novità di tipo epidemiologico. Sulla variante inglese del virus il dottor Manfrin non ha dubbi. Probabilmente è già in circolazione anche da noi anche perché gli spostamenti tra varie nazioni ci sono state. Ma oggi gli occhi sono tutti puntati sul vaccino e il V-Day di domenica 27 dicembre. 100 le dosi assegnate all'Uslotto poi ci sarà il richiamo a fine gennaio. Azienda sanitaria che ha fatto una scelta che va oltre l'ospedale San Bortolo. Ci sono trasversali, una sessantina dell'ospedale e una quarantina del territorio. Ci sono dentro medici di base, ci sono dentro i reparti Covid più esposti, quindi le malattie infettive, la rianimazione, la pneumologia. Insomma sono 100 dipendenti un po' di tutte le categorie. Ultime ore di shopping prima del lockdown natalizio. Negozi aperti ma non molti vicentini ne hanno approfittato. Ultime ore, ultime corse per gli acquisti prima del passaggio da fascia gialla a rossa e il lockdown per le festività natalizie. Luce accesa e serande alzati, i negozi hanno tenuto aperto tutto il giorno per dare la possibilità anche ai ritardatari di fare l'ultimissimo regalo, di acquistare gli ultimi addobbi. Oggi è l'ultima giornata di acquisti, già tutto pronto, domani ci chiudiamo in casa. E se c'è chi ha approfittato anche di queste ultime ore per un tour di shopping, c'è chi invece preferisce evitare e chi del mestiere fa notare la differenza con gli altri anni. E' l'ultimo giorno per gli acquisti. C'è una corsa? La fate? No, no, va, dobbiamo stare attenti per davvero. Corsa agli acquisti? Non mi sembra, anche perché io lavoro in un negozio, quindi non è che c'è stata questa grandissima corsa agli acquisti. La gente è già chiusa in casa? E quelli che dovevano comprare hanno già comprato. Molto meno movimento e quindi tutta la gente è un po' chiusa, già in casa, già da ora. Vicenza e i vicentini si preparano a rimanere tra le mura domestiche, ma prima si può sempre fare gli auguri alle amiche in piazza davanti ad un aperitivo, naturalmente nel rispetto delle misure anti-Covid. Noi ci ritroviamo ogni anno e quest'anno lo facciamo qui. Grazie! Tornano i buoni spesa in aiuto a famiglie e persone in difficoltà. Stavolta non sono buoni cartacei, il denaro sarà caricato sulla tessera sanitaria. Sono sempre di più le persone e le famiglie in difficoltà a causa della pandemia. In loro aiuto il Comune di Vicenza, con il contributo economico di 585 mila euro stanziati dal Governo, fino ad esaurimento, ha introdotto i buoni spesa. Per poterli avere bisogna disporre dei depositi bancari, postali o risparmi non superiori a 5 mila euro. La novità è che non si tratta, come a primavera, di un classico buono cartaceo. I soldi verranno direttamente adebitati nella tessera sanitaria. Quindi il cittadino potrà recarsi presso tutti gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa a fare la spesa, ovviamente una spesa di genere alimentare, di genere di prima necessità, e semplicemente poi pagando con la tessera sanitaria come se fosse un banco. Ma senza nessun costo di commissione o costi aggiuntivi. Le domande possono già essere presentate online attraverso il sito del Comune, ma per accedere è indispensabile utilizzare le proprie credenziali Speed o MyID. Oltre i buoni spesa, l'amministrazione ha valato di suo una serie di altre misure. Io ho messo a disposizione quasi 2 milioni e mezzo tra tutti i benefici, tra il bonus energia, il bonus tari, il bonus affitti, insomma molte somme per aiutare le famiglie. In queste ore è arrivata un'altra buona notizia per la difficile vertenza sindacale della Foral Palzileri. L'azienda, attraverso l'amministratore delegato, ha accolto le richieste dei sindacati e del tavolo regionale dicendosi disposta ad avviare un confronto costruttivo. Proprio nei giorni in cui sta per terminare il 2020 caratterizzato da mascherine e guanti abbiamo fatto il punto della situazione con chi vende presidi medico-sanitari. Nell'anno orribile del Covid l'economia ha viaggiato a due velocità. C'è chi è stato costretto a fermarsi, chi è finito in clausura e chi invece ha dovuto moltiplicare gli sforzi per riuscire a dare un servizio ai cittadini. Tra le attività prese d'assalto nel 2020 ci sono sicuramente le farmacie e i negozi che vendono presidi medici-sanitari. È stato un anno straordinario, è stato un super lavoro, un lavoro anche molto concitato. Abbiamo avuto tantissime richieste di dispositivi di protezione individuale. In un anno abbiamo venduto circa 3 milioni di mascherine tra chirurgiche e FFP2. Abbiamo venduto anche moltissimi guanti, circa 6 milioni di guanti e altri dispositivi come gel per la sanificazione delle mani. Al termine di questo anno terribile dal punto di vista sanitario ed economico abbiamo imparato l'importanza delle precauzioni di una condotta prudente dell'uso delle mascherine, dei guanti e di tutti i presidi sanitari. In questo momento c'è un'attenzione da parte di tutti gli utilizzatori di mascherine. Preferiscono utilizzare le mascherine FFP2 perché hanno un livello di protezione molto più alto rispetto alle mascherine chirurgiche. Il consiglio è sempre quello di indossarle sempre, comunque quando si è in compagnia o vicino a persone che non si conoscono. Si consiglia anche di utilizzarle, se possibile, con familiari che non si vedono da molto tempo. E in effetti, nonostante quelle in arrivo siano feste sotto tono, in clausura, l'augurio è che il futuro sia più luminoso. Gli auguri che faccio a tutti gli spettatori sono anche di vivere Natale, anche se magari in piccoli gruppi, solo in famiglia, ma di vivere Natale con lo spirito di un nuovo inizio. Siamo alla cronaca con una rapina in un supermercato di Anconetta a Vicenza. Il malvivente ha puntato il coltello al volto della commessa e si è fatto consegnare l'incasso. Sono stati momenti di terrore per la 51enne commessa del supermercato Prix di Anconetta a Vicenza che in orario di chiusura martedì sera si è vista puntare al volto un coltello da un uomo. Il rapinatore Daniel Chiariello, 31enne nativo di Tiene ma senza fissa dimora, l'ha minacciata puntandogli l'arma e facendosi consegnare l'incasso a 226 euro. Chiariello è poi fuggito in direzione del passaggio ferroviario. Sul posto sono giunti i carabinieri e allertati alla chiamata al 112. I militari, su indicazione di un uomo che aveva assistito alla rapina e che ne ha fornito la descrizione, sono riusciti a rintracciarlo poco lontano lungo la pista ciclabile di Cavazzale. Bloccato, è stato arrestato e condotto in carcere. Chiariello, il suo attivo ha già diversi precedenti, tra cui l'aggressione anche un dipendente delle ferrovie ed un carabiniere. E ora uno dei dubbi tipici di questi giorni. Panettone o Pandoro? Di certo uno dei due sarà sulla tavola dei Vicentini l'importante che sia artigianale anche per sostenere il settore. Siamo a Natale, insomma la tradizione vuole sempre essere rispettata. Panettone o Pandoro? Come andiamo? Allora, noi nel dubbio li produciamo entrambi. Ovviamente il Pandoro è il prodotto della tradizione veronese, se vogliamo. Sulle tavole dei Vicentini la tradizione, anche se questo sarà un Natale diverso, non può mancare. Gli artigiani, i pasticceri, dunque, si sono sbizzarriti con varianti della farciture di ogni tipo. Qui ad Arzignano addirittura il panettone rigorosamente artigianale ha otto farciture diverse. Panettoni e Pandori che si cominciano a produrre già da settembre, per poi far bella mostra di sesso gli scaffali di pasticcerie, gastronomie, denoteche. Panettone che peraltro sembra aver conquistato una sua autonomia rispetto alle festività. Si sta un po' sdoganando il panettone, non è più forse il dolce natalizio, come lo era fino a qualche anno fa. È diventato un dolce autunnale, invernale, che comunque si apprezza anche molto prima di Natale. Artigiani che si sono adeguati ai tempi guardando al mercato estero, organizzandosi con le vendite online ed oggi con il Covid rafforzando l'e-commerce. È stato intensificato molto durante la prima andata di Covid a Pasqua e lì ci siamo organizzati con un customer service adeguato, un ufficio di logistica e di amministrazione, giustamente per dare un servizio anche ai clienti online. Di questi tempi, insomma, l'invito rimane quello di comprare artigiano anche da casa con un semplice clic sul computer o smartphone. Continuate anche in questi giorni a mandarci i vostri presepi con una breve ripresa orizzontale via mail vicenzachiocciolareteveneta.it oppure con whatsapp 345-855-9664 Vediamo ora il presepe della famiglia Ferro, frazione di Alte di Montecchio Maggiore. La famiglia Ferro di Alte di Montecchio ha il piacere di presentare il loro presepe ringraziando Rete Veneta della sua disponibilità. La famiglia Ferro di Alte di Montecchio Auguro a tutti buone feste E auguri anche da parte nostra la programmazione di Rete Veneta con Sport in Casa Alex Giuliano ospiterà stasera Alessandro Ferro Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli avrà come ospiti Vivian Moro, Giacomo Possamai, Tommaso Razzolini, Massimo Venturato, Alberto Villanova è tutto anche per questa edizione di TG Vicenza vi lascio al meteo, buona serata Nuovo Renault Captur Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid scegli tu quando guidare elettrico Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene Ben trovati al meteo festività di Natale all'insegna del maltempo si inizia con la vigilia assegnata dall'arrivo di una perturbazione il dettaglio di giovedì 24 dicembre sul Veneto cielo prevalentemente coperto con locali banchi di nebbia al mattino precipitazioni deboli a carattere sparso più probabili sui settori settentrionali della nostra regione ma non da escludersi anche altrove limite della neve in abbassamento fino a 1100-1300 metri sulle Dolomiti temperature stazionarie minimetralo 0 e 6 gradi valori massimi oscillanti invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca ci spostiamo ora a Vicenza in città ma anche in provincia lo scenario vedete sarà lo stesso molte nubi sin dal mattino e un po' per tutto l'arco della giornata il tempo risulterà spiccatamente instabile con qualche piovasco intermittente e a carattere sparso dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto grazie per l'attenzione e arrivederci nuovo Renault Captur scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid scegli tu quando guidare elettrico nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene